Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. E neanche in questo inizio di autunno sembra destinato a calare. Tra poco ne parliamo con un ospite, adesso la copertina a cura di Silvia Corsi. Accade sempre così, sorge un problema che di solito viene raffigurato con i contorni dell'emergenza, scoppiano le polemiche, si susseguono gli annunci roboanti, talvolta arrivano i provvedimenti e poi cala il silenzio dei media che nel frattempo iniziano a inseguire in un loop senza fine un altro dossier emergente. E' accaduto così anche con il caro carburanti. In piena emergenza per le bollette energetiche, pure il prezzo della benzina ha subito una fiammata fino oltre i 2,5 euro al litro, complice anche lo stop delle accise che era stato decretato dal governo Draghi. L'esecutivo annuncia fuoco e fiamme, dispone una verifica sull'andamento dei prezzi e promette misure contro le fin troppo evidenti speculazioni. Poi però, Mister Prezzi, il garante dei consumatori, si limita a dire che, al netto delle tasse tutte italiane, gli aumenti del carburante sono più o meno in linea con le oscillazioni del Greggio e del Ministero. In nome di una maggior trasparenza, impone ai gestori delle pompe di benzina di esporre cartelli con la media regionale dei prezzi. La misura non solo come prevedibile non abbassa i listini, ma anzi provoca un'ulteriore fiammata dei prezzi, perché nel frattempo si era in agosto, in tempi di esordi per le vacanze. Con l'autunno, però, l'emergenza rischia di riproporsi, fondendosi con una nuova impennata anche dei costi delle bollette energetiche. Ma mentre il governo annuncia nuovi provvedimenti, tra le associazioni dei consumatori c'è chi chiede al governo cautela per evitare nuovi scossoni al mercato. L'Avvocato Emanuela Bertucci fa parte del team legale dell'ADUC. Bentornata, buonasera Avvocato. Buonasera a lei. Adesso ci aiuta un po' a capire che cosa è successo quest'estate e come mai le misure messe in campo dall'esecutivo non hanno sortito effetti. Però mi ha colpito perché, tra le varie associazioni, la vostra è una di quelle che ha detto attenzione, forse è meglio che il governo non prenda più provvedimenti. Che sembra ironico così, ma riassume un po' il vostro senso anche di scoramento. Ci spiega questa uscita che avete avuto? Allora, se i provvedimenti sono come quelli che ha preso quest'estate, allora è il caso che non li prenda. Nel senso che ci ritroviamo in una situazione simile, addirittura più grave rispetto al marzo del 2022 quando ci fu la prima fiammata dei prezzi dei prodotti energetici di benzina e gasolio. All'epoca la benzina arrivò più o meno a 2 euro e il governo dell'epoca, presiduto da Draghi, decise di tagliare l'accise di 25 centesimi. Le accise sono 73 centesimi al litro di benzina e insieme all'IVA, come diceva il servizio, sono la componente fondamentalmente principale del prezzo della benzina che oscilla a seconda dei periodi fra il 45% e il 70%. Quindi la prima considerazione che va fatta è che quando andiamo a pagare il prezzo alla pompa e c'è quel famoso video del 2019 della Meloni che la tormenta a giorni alterni in cui si sbigottiva di questa e chiedeva il taglio dell'accise, ma all'epoca era all'opposizione. Insomma, all'epoca Draghi stabilì un taglio di una porzione dell'accise nella misura di 25 centesimi. Oggi i dati ministeriali di agosto 2023, il mese appena passato, parlano di un prezzo medio della benzina di 1,94. Sappiamo benissimo, perché andiamo alla pompa tutti i giorni, che il prezzo ormai è sopra i 2 euro, per il servito si arriva facilmente a 2,20-2,30 euro. Rispetto a queste situazioni, quali sono le attività, i provvedimenti e le azioni che il governo ha posto in campo per aiutare famiglie, non soltanto con il prezzo alla pompa, ma anche per tutte quelle ricadute che ha il prezzo della benzina. Praticamente sono state prossime allo zero. Sono state quelle che definiamo, ben possiamo definire, fuffa. Nel senso, inserire i prezzi medi regionali è una misura neanche propagandistica, perché alla fine ognuno di noi vede quel prezzo regionale lievemente più basso rispetto alla pompa alla quale ci riforniamo e al più scuote la testa, ma non ha alcun effetto. Il secondo parco di azioni che il governo sta pensando di porre in essere è conversare con Mr. Prezzi e con il presidente dell'Antitrust per verificare se trasparenza e concorrenza nel mercato siano rispettate. Per amor del cielo, vadano tutti quanti i dialoghi, ma sappiamo benissimo che il cuore del problema del caro benzina non è certo la mancata trasparenza o la mancata concorrenza sul mercato. L'effetto delle misure di quest'estate, cioè il famoso cartello con i prezzi medi, ha avuto soltanto l'effetto che quando la Guardia di Finanza è andata a verificare, sono state rilevate delle violazioni perché c'erano dei gestori che non comunicavano il prezzo e quindi ci sono state delle multe. Ma da qui a dire che questo abbia abbassato il prezzo alla pompa, assolutamente no. Poi adesso è allo studio, o comunque si parla in questi giorni, di un'altra misura che il governo vorrebbe mettere in campo e che è una sorta di social card del valore, si dice di 150 euro una tantum, da assegnare alle famiglie con una fascia di reddito inferiore parrebbe, anche qui sono informazioni che girano e voci che vengono messe in campo dal governo tramite interviste, anche un po' per sordare il campo e gli umori dell'elettorato, comunque dice che dovrebbe essere una soglia intorno ai 25 mila euro versata su quella carta che è stata creata come aiuto alimentare contro l'infrazione dedicata a te. Quindi si tratta di, il governo contrasta il caro benzina con la carità di fatto, perché non è un tema risolutivo, non è un intervento risolutivo. Quali sarebbero gli interventi risolutivi? La domanda è questa, perché sinora sembra che il governo abbia soltanto delle misure spuntate, cioè cos'è che può fare concretamente? Il governo è il principale attore, lo Stato italiano, le casse dello Stato sono il principale attore, molto più che il benzinaio e molto più che il mercato petrolifero, perché detengono di quel prezzo della benzina la componente superiore al 50%, per cui quello che dovrebbero fare è autotassarsi o meglio rinunciare a determinati profitti o abbattendo, iniziamo a dire che abbiamo capito che è escluso che ci sia l'azzeramento delle accise come detto nelle campagne elettorali passate, è escluso che ci sia anche il taglio delle accise temporaneo momentaneo che riesca ad attutire i contraccolpi che altrimenti dovremmo dovremmo attutire come stiamo attutendo tutti quanti noi. L'altro meccanismo che esisteva dal 2008 e che a gennaio del 2023 il governo ha rilanciato facendone la punta di diamante della sua lotta il caro carburante è la cosiddetta accisa mobile. Vale a dire, ogni volta che il prezzo del petrolio sui mercati internazionali supera un determinato livello che setta il governo, che indica il governo nel documento di economia e finanza, superato quel livello si abbatte l'accisa e quindi automaticamente senza che debbano essere fatti dei provvedimenti perché c'è un maggiore introito nelle case dello Stato che deriva dall'IVA e quindi il maggior gettito di IVA va a compensare l'accisa con l'effetto che lo Stato ha sempre lo stesso introito dal punto di vista economico e il consumatore ne ha diciamo un effetto di sconto sul prezzo che paga alla pompa. Al momento, nell'ultima nota, nell'ultimo documento di economia e finanza questo livello era settato su un determinato prezzo di euro al barile di petrolio che era di 77, 77 e qualcosa euro al barile. Oggi il prezzo del barile, del petrolio al barile è circa di 2 euro sotto quindi ci stiamo avvicinando alla soglia per far scattare questa cisa mobile. Che cosa sta pensando il governo? Pare, c'è il timore abbastanza fondato che con la prossima nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che si chiama NADEF e che dovrà essere emessa, rilasciata entro il 27 di marzo, alziamo l'asticella italiana. Quindi alziamo il livello oltre il quale scatta la cisa mobile. Il che vuol dire fondamentalmente e questo bisogna prenderne coscienza e dare un nome alle proprie scelte politiche che non è intenzione del governo intervenire sul caro carburante in maniera sistematica, che si darà forse una elargizione economica alle famiglie più bisognose con una dotazione economica di questa misura minima rispetto alle esigenze per cui si stileranno le graduatorie e chi arriva prima si prende, chi arriva più in alto ottiene il beneficio, chi non sopra la soglia è si arrangia anche se di poco e questa è la politica del governo, praticamente prossimo allo zero. Allora se questa è l'impostazione e l'uniche cose che il governo intende fare sono movimenti propagandistici che possono avere come effetto quello di farlo alzare semmai il prezzo della benzina, vedi i cartelli di quest'estate, forse è meglio che non faccia nulla. Avvocato, è stata molto chiara nella spiegazione e grazie anche perché ci ha permesso di ripercorrere le tappe di quel poco o nulla nel suo giudizio che è stato fatto sinora, allora le faccio una domanda, abbiamo soltanto un minuto per cui devo chiederle di essere sintetica ma può anche salvarsi con una battuta. Tutto questo che cos'è? Sadismo, incapacità, il fatto che davvero è difficile regolamentare il libro mercato oppure siamo talmente poveri in canna come paese, abbiamo i conti pubblici talmente indissesto che anche una scelta coraggiosa e che potrebbe fare il governo come il taglio delle tasse delle accise è assolutamente un miraggio. Allora più che una scelta coraggiosa dovrebbe essere una scelta seria, no? C'è poco da far battute, siamo sicuramente in un momento economico estremamente difficile, l'Italia non brilla per debito pubblico e quindi assolutamente non è un momento semplice. L'importante però è chiamare le cose con il proprio nome e dire ai cittadini al netto delle propagande, perché poi comunque sono i cittadini che vanno a fare la spesa ogni giorno al supermercato e si rendono conto di quali sono i prezzi, come stanno le cose, quello che si può fare e quello che non si può fare. Se c'è qualcosa che non si può fare, non si fa, ma un approccio serio e una comunicazione seria vengono comprese dai cittadini. Le prese in giro no. Allora, trattateci come persone in grado di capire, fate opera di consapevolezza della collettività affinché noi si sappia per quale motivo ci sono certe cose anziché prometterci un miraggio che poi non è attuabile. Io ringrazio l'avvocato Emanuele Bertucci, avvocato che fa parte, lo ricordo, del team legale dell'associazione Aduca che si batte per i diritti degli utenti e dei consumatori. Buona serata a lei e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie al nostro ospite e a voi che ci avete seguito. Adesso parte la prima serata di Radio Roma Television. Noi torniamo con Extra domani alle 21.15. Vi aspetto. Extra. Tutti i colori dell'attualità. Con Claudio Micalizio.